ciao bambini sono la maestra barbara oggi vi leggerò questo libro che si intitola il paese di colli lunghi e parla di una famiglia di giraffe infatti poi dopo la lettura proveremo insieme a costruire questa bella e simpatica giraffina d'accordo si parte il paese di colli lunghi nel paese di colli lunghi vive una famiglia di giraffe raffa raffo tea beo e dea al mattino tea beo e dea fanno colazione e bevono un bel bicchiere di latte tea beo e dea sono sempre in ritardo e devono correre per andare a scuola in classe le giraffe sono sempre sedute nell'ultimo banco davanti ci sono i compagni più bassi quando la maestra interroga dea beo e tea allungano il collo e suggeriscono le risposte durante la ricreazione le giraffe vanno in giardino e mangiano le mele dall'albero dopo la scuola tea beo e dea tornano a casa si lavano e si profumano un bel giorno arriva la zia gira con una grande valigia ci sono regali per tutti a tea un bel fiocco rosso a beo una sciarpa a righe a dea una collanina a raffo gli occhiali da sole e a raffa gli orecchini intanto mamma raffa ha preparato una torta gigante la zia gira dice è proprio alla nostra altezza dopo cena la zia gira saluta tutti e torna a casa in moto per viaggiare di notte si mette un casco speciale con sopra una stella vi è piaciuto questo racconto? adesso allora proviamo a costruire questa bella giraffa bisogna procurarsi il materiale allora ci servono dei fogli colorati gialli e arancioni se non li avete come sempre prendete un foglio bianco e lo colorate poi una colla stick una matita penarello marrone una forbicina con le punte arrotondate e se ce l'avete anche dello scotch del nastro adesivo eccolo qua siete pronti? cominciamo ecco qua prendiamo il foglio quello giallo o quello che avete colorato di giallo e dobbiamo fare una forma a cono come si fa? si parte da questo angolino e si rotola la carta fa tutto il giro vi faccio vedere di nuovo si parte da questo angolino e con tutte e due le manine si rotola 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 e viene proprio la forma di un cono come quello del gelato adesso dobbiamo fermarlo questo cono allora o si mette la colla qui sotto al bordo oppure se avete lo scotch si fa ancora prima e si mette ecco qua si ferma la carta in questo modo ecco poi qua sotto deve diventare bello dritto perché così la nostra giraffa vedete può stare in piedi prendiamo la forbicina e proviamo a fare un taglio bello dritto così ecco poi proviamo a vedere se sta in piedi ok allora può andare adesso la giraffa ha delle macchioline allora prendiamo un foglio magari arancione ci disegniamo delle macchie dei cerchietti di varie forme ecco qua come volete voi oppure se non avete il foglio arancione le potete anche disegnare direttamente sulla giraffa poi prendete la forbicina e piano piano ritagliate tutte queste macchioline io le ho già preparate per fare più presto eccole qua prendiamo la colla stick e una alla volta incolliamo le macchioline sulla giraffa sul cono ecco qua che abbiamo preparato una qua la mettiamo sparse ecco qua un'altra la mettiamo da questa parte un'altra la mettiamo di qua quante volete voi un'altra la mettiamo di qua ecco qua cosa ci manca? eh! la testa della giraffa allora prendiamo un foglio un altro pezzo di foglio giallo magari anche il ritaglio di prima oppure se ne avete uno un po' più grande e provate a disegnare la testa della giraffa allora io sono capace di farla in questo modo ognuno prova come riesce meglio faccio una specie di ovale poi faccio una curva così che sarà il musetto della giraffa i buchini per il naso gli occhi un po' qua poi la giraffa ha delle piccole corna disegniamo anche queste op! fate un po' così ecco le orecchie facciamo anche un bel sorriso facciamo felice questa giraffa e magari anche delle ciglia poi col penarello marrone coloriamo le varie parti ecco qua gli occhietti ecco così la bocca coloriamo anche le piccole corna ecco qua e poi con la nostra forbicina andiamo a ritagliarla anche questa ne ho già preparata una tagliata così si fa più presto e cosa bisogna fare? dietro nella parte che corrisponde al musetto della giraffa mettiamo un po' di colla stick ecco qua perfetto e adesso la attacchiamo in cima al nostro cono ecco qua così sulla punta del cono ecco realizzata la nostra bella giraffina vi piace? è proprio simpatica eccola qua tutta intera sta anche in piedi ma è troppo alta non si vede neanche eccola qua ok aspettate c'è anche la sua amica eccole qua allora mi raccomando provate anche voi e poi mandate le foto alle vostre maestre con queste giraffine ci potete anche giocare ciao bambini mi che mi 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 mi